Questa mattina con l'aiuto del Signore vogliamo aprire le nostre biblie, ma vorrei dire che questa mattina entriamo in una miniera, facciamo come se trassimo in una miniera dove sono soltanto pietre preziose. E questa miniera è la parola di Dio, dove scaleremo e troveremo delle cose molto importanti per la nostra vita spirituale. E parleremo di un uomo il quale è stato descritto quando ha visto la gloria, la gloria di Dio in una visione. E il Signore ha detto non temere, sii forte, coraggioso, perché tu sei grandemente amato. Pensate chi è questo? Daniele. E questo personaggio Daniele questa mattina ci introdurrà in questa caudetività, in questa miniera, dove vedremo passo passo e troveremo delle pietre preziose. Per quale sono utili ad aggiorinare la nostra vita spirituale. A voi mi seguirete, io leggerò alcuni versi alla volta e ci soffermeremo quando troveremo queste pietre preziose. Per capitolo 6 del libro di Daniele. E' scritto nella parola del Signore, l'Apostolo Pietro dice che noi siamo stati fatti partischi nella natura divina di noi, avendo ricevuto la nuova razza. E abbiamo lo Spirito Suo dentro di noi. E poi dice alla fede sopraggiuncete le virtù. La vita del cristiano deve essere una manifestazione di opere pratiche, manifestate attraverso le virtù che il Signore corona e ripeste la nostra vita spirituale. Allora leggiamo questo passo della scrittura e ci perderemo un po' i versetti alla volta. Parve bene a Dario di affidare l'amministrazione del suo regno a centoventi sacri, distribuiti in tutte le province del regno, e sopra di loro nominò tre capi, uno dei quali era Daniele, perché i sacri vi rendessero conto a loro e il re non dovesse soffrire alcun danno. Questo Daniele si distingueva tra i capi e i sacri, perché c'era in lui, ecco la prima pietra, uno Spirito straordinario. E lei pensava di stabilirlo soprattutto nel suo regno. Ci soffermiamo alla prima pietra, Daniele possedeva uno Spirito straordinario. E io dico che noi cristiani possediamo lo Spirito di Dio, possediamo lo Spirito straordinario. E siamo delle persone straordinarie. Perché non viviamo soltanto umanamente guidati dalla nostra volontà, ma la nostra volontà sottoposta a Dio e guidando il benedetto da Lui che l'ha rinnovata la nostra vita. Noi viviamo in questo mondo avendo ricevuto uno Spirito straordinario. Perché lo Spirito Santo è dentro di noi. Il Signore dice che Lui verrà e dimorerà di noi. E Lui dimora di noi. Io e il Padre faremo dimore. E perciò noi possiamo fare anche opere straordinarie del quale il Signore ci ha fidato. Questi segni accompagneranno colore che avrà un creduto. Avere fede. Perché il Signore muove la sua mano quando noi crediamo e opera potentemente attraverso la nostra vita. Azioniamo la nostra vita di questo Spirito straordinario il quale il Signore ha unito i Suoi figlioli, il suo popolo. Noi siamo stati fatti figlioli di Dio, no? Non nati dalla carne né dal sangue, ma dall'alto. E allora siamo figlioli di Dio e abbiamo lo Spirito di Dio. Lo Spirito della sua grazia. E alla sua grazia dobbiamo ancora sovraggiungere delle virtù. Daniele che si trovava sotto questo regno nel buco dell'esame e poi di Dario e poi di Cino lui è stato con diversi re di quel tempo usati da Dio in quel periodo era un uomo nel quale ce neva in sapienza, in conoscenza perché lui era una persona speciale perché lui era una persona che aveva un buon rapporto con Dio. Teniamo sempre questo buon rapporto con Dio. Io sono stato nelle poste e quando è stato il periodo del terremoto mi mandarono a chiamare dentro dal direttore stavano tutti riuniti e dovevano decidere se andare via o rimanere. E mi mandarono a chiamare e le dissero chiamiamo Ascarardo. Lui sa buoni rapporti con Dio. Quello che lui dirà di fare e noi quello faremmo. E mi sono trovato davanti al direttore e davanti a tanti colleghi superiori e mi hanno chiesto se dovevano chiudere e andare tutti via a casa per le scosse di terremoto oppure dovevamo restare. La grande responsabilità. Però ancora avevano fiducia in me e evidenziavano che riconoscevano che per grazie di Dio in mezzo a loro c'era un uomo di Dio. E io mi senti nel cuore di dire che quando io sarò qui non succederà niente. Ma quando andrò via non sono responsabile più. e grazie a Dio rimaniamo tutti lì a lavorare. Signore grazie. A te la gloria e l'onore per quello che tu fai per quello che tu sei. ma Daniele da parte del re voleva farlo ancora al di sopra di tutti. Ci dice la parola del Signore che leggiamo appresso che i campi e i sacri cercavano di trovare un'occasione per accusare Daniele circa l'amministrazione del regno ma non potevano trovare alcuna occasione né alcun motivo di riprensione ecco troviamo la nostra pietra perché egli era fedele fedeltà e non c'era in lui alcuna mancanza da poterli rimproverare spirito e fedeltà nel compito di servizio. Noi siamo una testimonianza nel mondo e mi ricordo la testimonianza di un giovane il quale lavorava in un'azienda ed era ragioniere e il datore di lavoro lo chiamò per fare un imbrogno una pratica che avrebbe fatto una truffa all'assicurazione ma il datore di lavoro cercò di mettere anche lui in mezzo questo e questo giovane era un cristiano e disse vicino al datore di lavoro datemi 5 minuti di tempo e vi do la risposta è andato nel piccio e si è dato le dimissioni e ce l'ha portata il datore di lavoro ha detto io non sono d'accordo su queste cose perché sono un figlio di Dio e si è autolicenziato quando è tornato a casa il papà gli ha detto adesso c'è di dar 2 milioni al mese dove lo trovo un altro posto di lavoro sapete come sono andate le cose questo giovane ha una bella azienda ma il suo datore di lavoro non ha più nulla il signore ha benedetto questo gradiente e che è anche un pastore che serve il signore alleluia il signore il signore grande meraviglioso non trovavano niente da potersi appellare nel compito e nel servizio che Daniele conviva nell'amministrazione del re Dario un credente è una persona di fiducia un credente è una persona onesta un credente è una persona leale siamo trovati tutte queste pietre preziosi spirito straordinario e fedeltà fedeltà non servite il signore come quando i vostri padroni guardano dice la parola del signore ma fatelo quando loro non vi guardano alleluia la parola di Dio è una miniera di insegnamenti per la nostra vita spirituale anche se questi satrapi questi personaggi magistrati prefetti uomini politici del regno di Dario furono genosi invidiosi di Daniele perché il re lo stimava tanto e allora non trovando come accusarlo davanti al re essi cercano in un altro modo e adesso scaviamo ancora qualche cosa noi non abbiamo nessun pretesto per accusare questo Daniele se non lo troviamo in quello che concerne la vence del suo Dio allora i capi e i satrapi vennero tumultuosamente presso il re e gli dissero vivi in eterno orridario tutti i capi del regno i prefetti e i satrapi e i consiglieri e i governatori si sono accordati perché promulghi il re un decreto e immunga un severo divieto chiunque per un periodo di 30 giorni rivolgerà una richiesta a qualsiasi Dio o uomo tranne l'atteo re sia accettato nella forza del leone ora o re promulga il divieto firma il decreto perché sia immutabile conformemente alla legge dei Medi e dei persiani che è irrevocabile e il re Dario quindi firmò il decreto e il divieto ma quando Daniele seppe che il decreto era firmato andò a casa sua e tenendo le finestre nella sua camera superiore aperte verso Gerusalemme tre volte al giorno si metteva in ginocchio pregava e ringraziava il suo Dio come era solito fare anche prima Daniele seppe di questo decreto ma ciò non cambiò il suo rapporto con Dio la preghiera è lo strumento per il quale parliamo con Dio Daniele aveva un appuntamento giornaliero tre volte al giorno di preghiera verso Dio quanto tempo preghiamo noi quanto tempo dedichiamo alla preghiera un cantico dice per ogni cosa per la preghiera la fede in Dio mostra il sentiero il sole risplende ora per me il segreto è la preghiera Gesù Gesù parlava con il padre attraverso la preghiera Gesù ci ha dato un insegnamento che lui pregava addirittura all'alba si avvisava si riterava in luogo in disparte e pregava perché durante il giorno non aveva il tempo per pregare la foto era sempre attorno a lui perché lui operasse in quella virtù che possedeva ricevuta dal padre per amministrarla a tutte le persone bisognose del suo tocco divino della sua parola della sua sapienza e della sua potenza gloria al nome del signore Daniele non si fermò poteva anche pensare e dire va bene sono 30 giorni che non pregherò e poi dopo io riprenderò un'altra volta la mia abitudine di pregare questa è un'altra pietra preziosa pregare c'era un pastore e poi ogni volta che un pietra si rivolgeva a lui questo pastore diceva sorella fratello prega il signore ma sapete questa risposta ad alcuni non piaceva perché sembrava come se il pastore si lavasse le mani e le dicesse va bene tu hai problemi prega il signore non me ne dirà più ma quello è il segreto la preghiera dirlo al signore portiamo e impariamo a portare i nostri pensi al signore Daniele era un uomo di preghiera anche affrontando la morte lui non ci ferma di pregare perché lui sa in chi crede lui sa a chi prega al signore al signore di ogni potenza il signore di tutto l'universo e di ogni creatore e ogni piatto che ha egli nelle sue mani alleluia Daniele era un uomo di preghiera un uomo straordinario uno spirito straordinario un uomo fedele ma anche un uomo di preghiera stiamo entrando ancora in questa galleria e in questa maniera piena di pietre preziosi continuiamo ancora a leggere e dice qui la parola allora quegli uomini accorsero in fretta e trovarono Daniele che pregava e invocava il suo Dio poi si regavano dal re e si ricordarono il divieto reale non hai tu decretato che chiunque per un periodo di 30 giorni farà una richiesta a qualsiasi Dio uomo tranne che a te o re si è accettato nella forza dei leoni e il re rispose e disse così ho stabilito secondo le leggi dei Medi e dei Persiani che è il re vocale non c'era nulla e niente che poteva cambiare da questo decreto allora quelli ripresero la parola e dissero al re Daniele uno dei deportati dalla Giudea non tiene nessun conto né te né di pieto che tu hai firmato re ma prega il suo Dio tre volte al gioco e udito questo il re fu molto addolorato e si mise in animo di liberare Daniele fino al tramonto del sole fece di tutto per salvarlo ma quegli uomini vendero tumultuosamente dal re e gli disse sappio re che la legge dei Medi e dei Persiani vuole che nessuno di Pietro o di Greco comunicato dal re venga mutato allora il re ordinò che Daniele fosse preso e gettato nella posse dei Leone e il re parlò a Daniele e gli disse il tuo Dio che tu servi con perseveranza prende quest'altra piede a me sarà lui a liberare alleluia quel Dio lui accettò di fare tutto il re lui stesso non poteva più cambiare le leggi e il decreto che era stato fatto ma c'era qualcuno che poteva cambiare tutto ora anche quando sembra che tutto sia contro di noi il Signore è con noi ed è con lui che ci libererà alleluia come quattro giovani che andarono tre giovani che andarono nella fornace e non ci dinamino davanti alla statua essi dissero poi Dio ci libera o non ci libera noi non ci ci notieremo davanti alla statua che tu hai fatto ma Dio lui li liberò perché mandò un suo angelo alleluia addirittura nella fornace non erano più tre ma erano quattro e una era simile a un figlio era Gesù nella teofania della Bibbia Gesù appare molte volte alleluia prima ancora che venisse nel mondo alleluia seguiva gli uomini di Dio e il piano di Dio dunque il re riconosceva che Daniele serviva Dio con perseveranza quante volte ci viene l'orientazione di venire in meno di fermarci siamo perseveranti perché chiunque avrà perseverato fino alla fine sarà salvato alleluia signore e ci prendiamo quest'altro gioenno prezioso ma il re ritornò al suo palazzo diginuò tutta la notte non invece nessuna delle concubine non riuscì a dormire e la mattina il re si avvisò molto presto appena fu un giorno e si regò in fretta alla fossa dei leoni e quando fu vicino alla fossa chiamò Daniele con voce angosciata ed disse Daniele servo del Dio vivendo alleluia questo non c'è più depressione Daniele serviva un Dio di re riconosciuto anche dal suo re Dario Daniele servo del Dio di bene il tuo Dio che tu servi con perseveranza ha potuto liberarti da le uomini si Daniele rispose al re vivi per sempre il mio Dio quanto è bello questa dichiarazione il mio Dio ha mandato il suo angelo che ha chiuso la bocca degli uomini ed essi non mi hanno fatto nessun male perché sono stato trovato innocente davanti a lui e anche davanti a te o re non ho fatto niente di male e lei ne fu molto contento e ordinò che Daniele fosse tirato fuori dalla possa e Daniele fu tirato fuori dalla possa e non ci trovò in lui nessuna ferita perché aveva avuto fiducia e il suo Dio ha di fiducia tutto tutto è possibile c'è fede tua tutto è possibile c'è fede tua fede fede muove la mano di Dio la tua parola è vita tutto è possibile sempre fede tua Daniele era un uomo che aveva fiducia il Signore crescice la fede e la sua testimonianza di queste caratteristiche che fosse deve a quest'uomo di Dio fece in modo che sotto tutto il regno del re Dario e di Ciro conoscessero per lettere il vero è la testimonianza del vero Dio non rimase soltanto una testimonianza del suo personale ma tutto ciò che avvenne glorificò Dio di Ciro è fatto conoscere anche agli altri popoli e altre nazioni che esiste un Dio vivente esiste un Dio vero che ha tirato il cielo e il mare è la terra ed ogni cosa dunque la nostra attitudine la nostra testimonianza il nostro operato ricambia con ritorno di essere glorificato il nostro Dio fatto conoscere la chi non lo conosce e portare benedizione anche sugli altri e la greve c'è uscì Daniele dalla bossa delle uri Daniele aveva avuto fiducia nel suo Dio e Dio ha mandato il suo angelo quando è stato il periodo della guerra mia mamma rimase rito ma ancora se dice divise la famiglia una parte a Napoli e una parte a Cerno perché dicevano che lì a Cerno non avvenivano bombardamenti aeree e mia mamma dice almeno se moriamo noi a Napoli si sa tre figli a Cerno cercò di fare il suo meglio e andammo in questa colonia ma vedono anche lì nei bombardamenti allora mia mamma ci venne a prendere e prendemmo il treno arriviamo a Battipaglia di notte il treno si fermò perché la stazione era minata e non si poteva proprio seguire mia mamma con tre figli eravamo noi più piccoli io mia sorella e mio fratello si visolta un'albero non sapeva se c'era la stazione ma poi venne un perubiere una persona che disse signora ma lei non sa che sta in pericolo qui può essere minato perché noi non sappiamo dove ha nominato la stazione dunque lei sta in pericolo mia mamma mi sa piangere ci sono una pede dove vado non sono non conosco nessuno questo personaggio disse vicino a mia mamma signora esca dalla stazione vada al marciapiede di fronte busserà il primo portone non gli apriranno busserà il secondo portone non gli apriranno ma il terzo portone gli apriranno e improvvisamente come ho preso in braccio non lo so ci troviamo dall'altra parte della stazione e questo uomo scomparve e veramente si avverò quello che era stato detto allora mamma che era una cristiana la credente disse il signore mi ha dato il suo angelo e non faccio mettere paura l'ha fatto venire vestito al ferroviere perché come era possibile che questa persona sapesse che al terzo portone ci aprirebbero e quando bussavano al terzo portone si abbracciarono e ci aprirebbero subito e loro dormivano nel letto si misero a dormire a terra in questa famiglia e loro ci misero nel letto e la mattina dormono e arrivano Daniele assicura il re venisce il re possano vivere in perpello il Dio al quale io servo a mandare il suo angelo ha giusto la bocca di Leone gli angeli del signore si accampano intorno a coloro che lo temano gloria al nome del Signore allora arriviamo quasi alla conclusione leggiamo ancora dopo di questo che Daniele l'uomo di Dicioso e per ordine dei tre i uomini che avevano accusato Daniele furono presi e gettati nella fossa dei leoni con i loro figli le loro moglie e non erano ancora giunti in fondo alla fossa e i leoni si lanciarono su di loro e strigolarono tutto le loro osse allora il re Dario scrisse alle genti di ogni popolo nazione e lingua che abitavano in giù la terra pace e prosperità mi siano date in abbondanza io decreto che in tutto il territorio del mio regno si rispetta il Dio di Daniele perché il Dio vive che dura in eterno e il suo regno non sarà mai distrutto e il suo dominio durerà fino alla fine e il Dio e il Dio libera e il Dio salva fa segni e prodigi in cena e in terra è lui che ha liberato Daniele dalle zappe del Dio che bella dichiarazione che lettera importante ma voglio concludere con un altro personaggio importante di Daniele qui hanno cercato di sopprimere un uomo di Dio ma Dio ha vegliato su Dio ma c'è stato un altro non uomo di Dio ma figlio di Dio che hanno cercato di sopprimere distruggere assicurando anche loro come hanno fatto quegli uomini che hanno voluto anche mettere il sigillo del re sopra la bocca della forza dei leoni che nessuno avrebbe mai potuto toccare o aprire o riaprire e salvare fare qualcosa per Daniele l'hanno fatto con Gesù si sono assurati di mettere il sigillo perché temevano che lui risuscitasse ma loro pensavano di farlo finita oramai nella tomba è finito tutto pensavano ai nemici per hanno hanno messo il sigillo hanno messo delle guardie ma il primo giorno della settimana è sceso un angelo dal cielo si è aperto la tomba alleluia e Cristo Gesù vivente è uscito per dare un messaggio al mondo di ieri e speranza al mondo di oggi e di domani un messaggio universale di vita e di mortalità perché poi Gesù risolto affidato il compito alla chiesa ogni potestà messa l'amico in cielo e sulla terra andate fra tutti i popoli predicate l'Evangelio insegnando loro di osservare tutte le cose che vi ho insegnato che vi ho dato vorreggendo gli ammalati scrittando i demoni alleluia perché ogni potestà messa da data gli uomini pensavano di annientare la vita di Gesù ma lui era venuto per vincere risuscitare e darci un messaggio di potenza di vita e di vita in tempo alleluia Daniele è Dio il suo tempo lo so la sua mano per liberare Daniele e Dio il suo tempo permise la risurrezione di suo vino per essere un salvatore vivente e presente in mezzo al suo popolo perché io sarò con voi in ogni tempo e perciò la sorella che ha testimoniato prima testimonia tutti i creanti ma mi hanno mandato di un Gesù di vento sì Gesù è risolto alleluia Gesù è veramente risolto alleluia anche i discepoli sulla via di marzo pensavano che c'era chiuso il libro della storia di Gesù noi vengevamo che lui fosse colui che liberasse Israele ma essi si sbagliavano poi ce l'hanno dato a morte è finito tutto mentre lui stava via fianco a loro Gesù camminava proprio via fianco a loro e gli apriva le scritture e li portava in questa miniera dove ci sono tutta la sapienza la conoscenza la potenza di Dio per chiunque vuole appropriarsene di questi beni spirituali sovraggiungendo alla fede la conoscenza sovraggiungendo alla fede la fedeltà sovraggiungendo le virtù dell'amore le virtù dell'umiltà affinché possiamo anche noi un giorno essere dei servitori che abbiamo servito del nostro Signore che la solo lo che benedetti stai Grazie.